Siamo in Piazza Montegrappa, uno dei luoghi pulsanti dove pulsa la vita appunto della città di Varese e sicuramente uno dei punti più riconoscibili è il Palazzo della Camera di Commercio e adesso cercheremo insieme di scoprire quale sia l'attività che appunto l'ente camerale svolge a favore del sistema economico della provincia di Varese con le sue 64.000 in prese. Il nostro punto di partenza per questo viaggio all'interno della Camera di Commercio non può che essere l'info point esattamente come succede per tutti i cittadini, per tutti i clienti della Camera di Commercio e per tutti i rappresentanti del sistema imprenditoriale che arrivano qua per entrare in contatto con la Camera di Commercio. Quali sono i servizi allora che Info Point mette a disposizione dei cittadini e delle imprese? Certamente una vasta gamma di informazioni, tutto ciò che serve appunto agli imprenditori, ai cittadini, anche ai consumatori per accostarsi al meglio all'attività della Camera di Commercio e poi i certificati, le visure, i certificati per l'estero, così come gli stessi elenchi di imprese. Insomma, una vasta gamma di informazioni. E ancora, tutti quegli strumenti tecnologici, faccio riferimento per esempio alla Carta Nazionale dei Servizi, alla firma digitale, tutti quegli strumenti che la nuova tecnologia mette a disposizione per rendere sempre più diretto il contatto tra le imprese e la pubblica amministrazione. Obiettivi dell'Info Point. La semplificazione amministrativa è di certo un'esigenza delle imprese. Ecco che qui, in questi uffici, si sta lavorando per cercare di andare sempre più incontro alle esigenze delle imprese. E poi, di certo, si vorrà continuare sull'obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi online per fare in modo che l'impresa direttamente dal proprio ufficio possa ottenere certificati, visure e documenti. Insomma, quei documenti, insomma, dicevo, necessari alla propria attività. Terzo obiettivo, naturalmente, la riduzione dei tempi nella erogazione dei servizi. Un obiettivo ambizioso, ma qui, all'Info Point della Camera di Commercio, si vuole lavorare per rendere sempre più competitivo il sistema economico varesino. Grazie a tutti.